Comincia a stringersi il cerchio sulle candidature a sindaco di Pesaro in vista delle elezioni amministrative dell'8-9 giugno. Sul fronte del centro-sinistra il decadere definitivo della possibilità di terzo mandato per Matteo Ricci sblocca definitivamente la partita fra i tre nomi papabili emersi da settimane. Andrea Biancani, Daniele Vimini e una Sara Mengucci che appare più defilata nel ventaglio di probabilità, così come risulta sempre più remota l'ipotesi di scelta attraverso le primarie, primarie che saranno invece lo strumento per scegliere il candidato a sindaco di centro-sinistra Fano. Fano dove il centrodestra ha ufficializzato la settimana scorsa la candidatura di Luca Serfilippi e ora da Fratelli d'Italia a Lega passando per Forza Italia Udc ci si concentra su Pesaro dove salgono in maniera importante le quotazioni di Marco Lanzi. 61 anni, storica figura di riferimento della polizia pesarese fra i ruoli di vice commissario e responsabile del sindacato SIULP, Lanzi è recentemente andato in pensione ma è quanto mai coinvolto nello sviluppo di progetti nel tessuto sociale della comunità. Vedi il percorso di contrasto bullismo e cyberbullismo nelle scuole diventato anche un format d'approfondimento proprio su Rossini TV. Tramontata l'iniziale ipotesi del funzionario di Confindustria Francesco Guazzolini, il nome di Lanzi sembra in vantaggio su quello di Giulia Marchionni, figura già interna all'opposizione consigliare pesarese. Gli alleati a livello provinciale sembrano però propendere per una figura del mondo civico e quella di Lanzi sembra attendere solo l'avvallo dei partiti a livello nazionale, fratelli d'Italia in primis.